Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Si fa presto a dire facciamo una presentazione e anzi a volte in maniera assolutamente impropria sento dire da colleghi e da lievi fammi un powerpoint. Oltre che improprio questo tipo di concetto è anche in violazione del famoso codice dell'amministrazione digitale, cioè esiste una legge che vale per tutta la pubblica amministrazione, scuola compresa, che ci dice che quando parliamo di presentazione io quella devo menzionare ad alunni e colleghi, cioè prepariamo una presentazione, bene, poi sta a noi in funzione delle risorse a base di software libero, quali ad esempio LibreOffice Impress, quindi LibreOffice Presentazione, Microsoft PowerPoint se sono in possesso di regolare licenza d'uso, oppure come in questo caso, tema del mio videocorso Google Presentazioni, scegliere la migliore risorsa idonea per. Ed ecco perché, volendo mostrarvi come utilizzare in maniera corretta lo strumento di presentazione web messo a disposizione da Google, partiamo dal nostro Google Drive, che può essere il Google Drive con accesso con account personale Gmail o un account con accesso istituzionale G Suite, clicchiamo su Nuovo e andiamo su Presentazioni Google. Se lavoriamo via web non abbiamo bisogno d'altro, se lavoriamo da dispositivo mobile, in quel caso Google Presentazioni come Google Documenti e Google Fogli va scaricata come app dedicata da Play Store o da App Store. Ora, tempo di esame, di preparazione della tesina, ma in realtà una presentazione, che sia multidisciplinare o meno, è sempre un ottimo modo di esporre un concetto ed un argomento e di fare ordine. Guardiamo un attimino i passaggi salienti di Google Presentazioni, intanto diamoci delle regole. Le presentazioni debbono essere asciutte, non è possibile osservare delle diapositive farcite di testo. La presentazione è una carrellata di informazioni e nozioni commentata da noi. Allora, a destra, quando io apro Google Presentazioni, trovo intanto i temi, quindi l'insieme delle diapositive che avrò, che scelgo liberamente in funzione anche del gusto, come dire, estetico-grafico, ma in verità andrebbero scelte in base all'obiettivo che io intendo raggiungere. Mi spiego meglio. Forse per una presentazione scientifica andrebbe meglio un tema magari di questo tipo, il Momentum, un filino più geometrico, per una presentazione magari più lineare oppure ancora più creativa, allora POP può essere un tema indicato. Io lo clicco e come vediamo ecco che in realtà io ho la copertina pronta all'uso. Allora intanto per evitare che, mancando la corrente elettrica, io poi non riesca a ritrovare in Drive agevolmente questa presentazione, in alto, dove vedo presentazione senza titolo, clicco e vado all'istante ad assegnare il nome che poi è quello che sto impiegando per il salvataggio in Cloud, cioè in Google Drive, della mia presentazione, ad esempio la seconda guerra mondiale. Alla stessa maniera utilizzo la diapositiva di copertina, fai clic per aggiungere un titolo, clic e vado proprio a digitare cursore lampeggiante la seconda guerra mondiale. Potrei tranquillamente selezionare il mio testo con il tasto sinistro premuto e tramite la barra degli strumenti che vedo in alto andare a cambiare la cosiddetta formattazione. Quindi il tipo di carattere, la grandezza del testo e così via. Se notate, ci sono dei font, quindi dei tipi di carattere che sono in parte uguali, in parte diversi a quelli che ritroviamo in LibreOffice Impress, presentazione o in Microsoft PowerPoint. Ad esempio, per lavorare trasversalmente con alunni BESS, quindi bisogni educativi speciali e non, io suggerisco sempre di impiegare un carattere come verdana. Se poi il corpo 68 è eccessivo, io clicco sul meno e vado a ricondurlo a più mite consiglio. Vedete? Quindi lo riporta una grandezza francamente più idonea. Dopodiché il fai clic per aggiungere un sottotitolo, nella nostra ottica potrebbe essere l'aggiungere il nome dell'alunno e la classe, se la facciamo fare loro, altrimenti può essere utile anche per noi. Quindi in questo caso io simulo di essere anche alunno e sono Andrea Cartotto di Terza B. Ok? La seconda guerra mondiale. A questo punto, agevolmente, io vado sulle miniature qui a sinistra che rappresenteranno lo storico del mio lavoro, clicco con il tasto destro del mouse direttamente sulla copertina e vedete che ho la possibilità di fare che cosa? Ho la possibilità di generare ad esempio una diapositiva uguale a questa, ma la diapositiva di copertina è una, lo schema poi del tema è articolato in forma diversa. Altrimenti io vado a cliccare nuova diapositiva ed ho la seconda pagina in base al tema che ho scelto, il mio pop, ma se io faccio un clic tasto destro sulla pagina 2 bianca e vado a scegliere Applica Layout, ecco che vedo, sempre all'interno del tema pop, delle sequenze logiche da applicare per dare un senso alla mia presentazione. Ad esempio, forse per iniziare poi a descrivere meglio il tema, potrebbe essere interessante, torniamo su Applica Layout, ecco qui questo modello. Fai clic per aggiungere un titolo, fai clic per aggiungere un sottotitolo e poi testo. In realtà io adesso andrò ad utilizzare alcuni di questi elementi ed altri invece li smonto perché non mi servono. Ad esempio, qua voglio inserire un'immagine quindi faccio un clic, non ho intenzione di mantenere questa casella di testo pronta, premo il tasto cance sulla tastiera e vado ad eliminare quel blocco. Per inserire lì all'interno una immagine che ho precedentemente scaricato dalla rete o che ho sul mio Google Drive, vado a fare clic su Inserisci in alto, barre dei menu questa volta, clic su Inserisci, poi vado a posizionarmi su Immagine ed ecco che ho Carica dal computer, clic. Avevo precedentemente posizionato una immagine relativa alla seconda guerra mondiale, io clicco su Apri, l'immagine si appunto posiziona in un dato punto, io con le mie maniglie di ridimensionamento, quelle di angolo, vado a rimpicciolirla facendosi di non perdere le proporzioni. Vedete che con il tasto sinistro premuto se io mi muovo piano ho anche il righello in rosso che mi permette di allineare ancora meglio i miei oggetti. In teoria io che cosa posso fare a questo punto? Se faccio un clic con il tasto destro del mouse sulla immagine se notate che cosa ho? Ho la possibilità di centrare ad esempio nella pagina l'immagine perché dice orizzontalmente e verticalmente, vediamo un attimo. Se io clicco orizzontalmente succede questo, ok? tasto destro ancora, si apre questo mio menu, vado di nuovo su centra nella pagina, questo è l'allineamento verticale. Se io non avessi magari questo assetto del foglio diviso in due parti, altrimenti il tasto sinistro del mouse premuto la vado a disporre in una posizione che sia logicamente coerente con la presentazione, poi qui io potrei andare ad inserire che cosa? Ad esempio a citare la fonte dell'immagine e allora per la fonte dell'immagine può essere interessante una casella di testo, dunque clic sul mio pulsante a forma di T, tasto sinistro premuto, vado a tracciare la mia casella di testo ed eccomi a digitare, fonte, due punti, suppongo e faccio finta che questa provenga da Focus, dal portale Focus www.focus.it slash seconda guerra. Trovate sempre qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea un videocorso dove parlo di una risorsa bitly, bitly, interessante proprio per citare la fonte ma in breve con un link parlante, vi invito ad andarlo a visitare. Ecco qui che ho la mia seconda pagina diciamo in parte confezionata, vado a dare un descrittivo per cui in realtà cosa vado a mettere? Potrebbe essere il periodo storico di durata quindi 1939-1945, poi clic nel campo in cui mi richiede di aggiungere un sottotitolo e ho prelevato in precedenza una porzione di testo, quindi ora senza digitarla io adesso faccio un clic con il mio tasto destro, vado a cliccare su incolla senza formattazione che è la procedura giusta per incollare del testo proveniente ad esempio dalla videoscrittura senza che abbia quell'aspetto estetico e quelle modifiche che magari gli ho dato nel momento in cui l'ho digitato, per cui quando io incollo senza formattazione ed è quello il modo corretto di incollare, incollo un testo pulito che poi potrò riformattare al bisogno. A questo punto naturalmente non va bene così com'è, la casella di testo va ingrandita mediante le maniglie di ridimensionamento, ecco qui, clicco sul mio 1939-1945, tasto sinistro premuto e vado a sollevare la mia casella con il periodo storico, clicco sulla definizione, tasto sinistro premuto, la posizione ancora meglio ed ecco che ho un assetto soddisfacente che mi permette poi di andare avanti. Siccome è opportuno avere in ogni pagina della presentazione ad esempio il nome dell'alunno ed il titolo, io consiglio sempre in questa fase di prendere ad esempio una bella casella di testo, clic sulla T, di andare in quello che è il cosiddetto pie di pagina, tasto sinistro premuto, traccio la mia casella di testo, raggiungo l'ampiezza del mio foglio orizzontale, qui vado a digitare Andrea Cartotto trattino terza B trattino la seconda guerra mondiale. Se fossi soddisfatto di questo assetto, io in realtà cosa dovrei fare? Potrei andare sulla pagina due appena generata, fare un clic con il tasto destro del mouse, andare a dirgli duplica diapositiva e mi trovo dunque una seconda pagina identica alla precedente sulla quale posso intervenire per andare poi a personalizzare solo i blocchi che mi siano necessari. Cambio l'immagine, aggiungo un testo magari qui sotto, modifico il periodo storico con un'altra titolazione, vado a descrivere il corpo del testo e in questo caso, vedete, la presentazione va ad essere una sintesi di contenuti che io posso commentare mostrandola. Questo vale anche per noi docenti quando mostriamo dei contenuti a video, li mostriamo in proiezione, quando teniamo un corso a colleghi, eccetera, eccetera, perché la presentazione non è fatta per essere letta, ma è fatta per lasciare uno spunto e una suggestione su cui riflettere, su cui dialogare. Tanto per gli amanti, in questo caso, della cosiddetta multimedialità legata alla presentazione, parlo degli effetti, vi mostro che se io faccio un click, sempre tasto destro in questo caso su una delle diapositive, qui proprio accanto al mio faccione c'è scritto transizione. La transizione è il passaggio da una pagina all'altra. La transizione si vede nel momento in cui io la presentazione poi la vado ad avviare e per avviare la presentazione, ecco qui il tasto e il comando in alto a destra via presentazione. La transizione è normalmente impostata su nessuna, ma se io vado a fare un click, posso per esempio scegliere una transizione con dissolvenza. Io imposterei con un click tasto sinistro premuto del mouse la dissolvenza come media almeno e non veloce e se poi intendo applicare questa funzione è comune a tutti i programmi che operano sulla presentazione. Il mio effetto di transizione a tutta la presentazione vado a cliccare su applica a tutte le diapositive. Il vantaggio di utilizzare Google Presentazioni a questo punto dunque qual è? Che io sto lavorando e salvando in cloud nello stesso momento. Bene, ma se mi dovessi trovare invece a voler scaricare una copia cosiddetta offline della mia presentazione perché per prudenza voglio lavorarci anche senza connessione ad internet, voglio tenerne una copia direttamente sul mio computer. Cosa faccio? Allora il salva in Google Presentazioni non esiste perché è sostituito dallo scarica. Quindi vado sempre sul mio file barra dei menu. Vediamo che in file trovo proprio scarica e attenzione vado un attimino a ragionare su questo punto. Non scarichiamo in un formato blindato e difficoltoso in apertura e scrittura quale il formato con la X finale PPTX. La X in fondo è una peculiarità di formato file di Microsoft che rende di fatto, e questo è un dato oggettivo, più difficoltoso il passaggio di mano in mano, quindi da programma a programma di quella presentazione. Se io voglio scegliere uno standard, il vero standard, il formato standard per le presentazioni, è ODP, Open Document Presentation. La genero con Google Presentazioni, posso riaprirla comodamente con LibreOffice Impress ad esempio. Oppure ancora, cosa che io consiglio, posso scaricare una presentazione in un comune, e lo chiamo comune, formato PDF, già nominato dunque la Seconda Guerra Mondiale perché prende il titolo dalla copertina. Clicco su salva e a questo punto ho una copia locale, si dice, cioè una copia offline del mio lavoro in PDF che posso conservare per scrupolo su una pen drive, quindi su una chiavetta, su un hard disk e così via. Allora, noi abbiamo sempre utilizzato e vi ho fatto usare per brevità la barra degli strumenti con le miniature, cioè con le anteprime delle nostre pagine. Se io scorro un secondo, come possiamo vedere la barra dei menu, questa è la medesima barra dei menu che io trovo francamente anche nei classici programmi di presentazione. Il menu inserisci, è interessante perché io posso andare ad inserire non solo un'immagine, cosa che abbiamo visto, ma posso inserire un file audio, un file video, anche in questo caso una forma piuttosto che una tabella. Mi vengono in mente le frecce, cioè i connettori da utilizzare qui nella nostra presentazione. Nel menu diapositiva io ho la possibilità di cambiare ancora il tema o modificare lo schema che è quello che abbiamo visto all'inizio di questo videocorso legato proprio a Google presentazioni. Il menu degli strumenti ha una funzione che ad esempio in questo caso può essere utile più francamente per noi, le note del relatore, dove io posso andare a commentare con una breve clip audio alla mia pagina. Esempio, strumenti, note del relatore, clic. Ok, io sto occupando quindi questa porzione, note del relatore, vedete dove rimane, dove c'è il cursore nero qui, io potrei anche digitare, ma ecco il fai clic per parlare, simbolo a forma di microfono, vado a fare clic. Do il consenso all'utilizzo del microfono. La seconda guerra mondiale di Andrea Cartotto, classe terza B. Ho cliccato sul pulsante microfono rosso per terminare. Questa è una funzione di accessibilità, per cui le note del relatore sono sempre quelle che noi conosciamo, sono a corredo di, ma io posso utilizzare Google Presentazioni anche per l'inclusione, e quindi l'alunno potrebbe voler dettare con la sua voce una nota relatore che accompagni i contenuti che sta presentando. Ok? Alla stessa maniera, tramite il pulsante qui presente a forma di catena, inserisci link, vi vado a mostrare un piccolo esempio, ora io vado a digitare www.focus.it, allora se io faccio così, digito www.focus.it, poi clicco su applica, io ho inserito un link in questo caso nelle note del relatore, per cui guardiamo un attimino. Io adesso clicco su avvia presentazione, pulsante in alto a destra, ecco la mia presentazione a schermo intero, vi vorrei mostrare che poi c'è un apposito comando che si chiama note, mi si apre in questo caso, a parte che vi mostro anche questa funzione tipica poi dei programmi di presentazione, c'è il contatore che mi sta dicendo quanto sta durando la mia presentazione, e lì ho le note del relatore che accompagnano e quindi per me consentono di avere in una finestra a parte dunque dedicata, dei commenti suppletivi che mi aiutino a raccontare quanto sto dicendo, ad esempio ora vedo www.focus.it, posso intervenire durante la mia esposizione e dire sì, inoltre ad esempio su www.focus.it c'è una sezione tematica dedicata proprio alla seconda guerra mondiale, da cui ho tratto anche l'immagine che abbiamo osservato prima. Chiudo con X, le note del relatore sono terminate, questa è la mia presentazione regolarmente a schermo intero, io ora ho fatto un click del mouse e io francamente preferisco che in questo caso la presentazione venga sempre accompagnata da un'azione del relatore o dell'alunno che la va ad esporre, vedete che lavorando su una presentazione pulita ho maggior modo di concentrarmi e di focalizzare l'attenzione, inutile occupare questa intera pagina con una sequenza lunga di testo. Ora ho fatto ulteriormente click, naturalmente non posso andare oltre pagina 2, la mia presentazione è terminata, se volessi lo schermo intero totale questo è il pulsante che vi sto illuminando con il puntatore da cliccare, se poi clicco su esci torno in realtà alla versione lavorazione della mia presentazione. Inoltre vi mostro che cliccando su questa immagine io posso aggiungere una animazione, vale per l'immagine come per il testo, questi sono i classici effetti di animazione personalizzata che non sono più il cambio da una pagina all'altra ma sono l'ordine di apparizione con l'animazione di apparizione di ogni elemento della mia presentazione. Pertanto io posso decidere che questa foto debba apparire con la dissolvenza in entrata al click del mio mouse, allora ho il pieno controllo della presentazione. Se ne sono soddisfatto a questo punto, facendo su aggiungi animazione ho la possibilità di aggiungere un ulteriore effetto per cui voglio un'entrata e poi una uscita, sì, no. Se io non voglio più, a parte non sarebbe coerente in questo caso avere due dissolvenze in entrata, io vedete che con il bidone posso rimuovere il secondo effetto, in questo caso era un doppione, ma avrei potuto dare un effetto di entrata, un effetto di uscita allo stesso elemento. Vediamo concretamente cosa è successo, clicco sempre sulla seconda guerra mondiale, mia copertina, vado su, avvia presentazione, pulsantone qui, se io clicco sul menu a tendina c'è proprio poi scritto avvia presentazione dall'inizio che mi permette di far questo, la seconda guerra mondiale, perfetto, Andrea Cartotto terza B, la stiamo osservando, siamo in pagina 1, copertina, tema, pop, se vi ricordate. Ho in questo caso accompagnato, quindi andiamo a cliccare sotto il mio faccione su riproduci, sul tasto play, ecco, pagina 1 cessata, copertina, pagina 2, l'effetto di dissolvenza in entrata, ok l'avete visto, appena appena, in realtà l'ho applicato in un secondo momento in questo caso, quindi è corretto quello che è successo, oltre pagina 2 non abbiamo nulla, se io ora vado a cliccare ancora sul mio tasto play, in realtà vedete che la presentazione va poi a ripetersi in maniera ciclica, eccolo qua, questa è la famosa pagina 3 sulla quale ho applicato l'effetto, erano le due pagine identiche, e via discorrendo vado a comporre e articolare la mia presentazione, ora ho cliccato ESC sulla tastiera per andare via, e siccome spesso vediamo presentazioni troppo ricche, un pochino confuse, con tanti link e tanti connettori, se io voglio qualcosa di più multimediale, di più impattante, allora forse vi consiglio una risorsa come possa essere genial.ly, genial.ly, ma una buona presentazione articolata come noi stiamo osservando, ci consente a mio avviso di ottenere un buon lavoro ordinato, fa fare bella figura all'alunno, al discente che la prepara, o un'ottima figura al docente che utilizza questa presentazione da condividere, o da esportare per i suoi alunni, il tasto condivisione lo vediamo, è qui in alto a destra, consentire loro appunto di utilizzarla magari per una lezione asincrona, o per una modalità di flipped classroom, per cui io prima offro questa presentazione affinché gli alunni si documentino, e in seconda battuta io faccio magari un'attività di verifica delle competenze con i ragazzi o con lavoro a gruppi, per verificare cosa sia rimasto di quanto spiegato. Avremmo potuto andare avanti veramente, non dico ad oltranza, ma quasi sulla creazione di una buona presentazione. Qui abbiamo i fondamenti che ci tornano comodo, sicuramente per un sacco di evenienze puramente didattiche, ma anche nel momento in cui dobbiamo trasporre in presentazione un argomento ed un contenuto che ci riguarda e che può anche essere la condivisione di una buona pratica tra colleghi. Non mi resta che salutarvi, lasciare come sempre a voi la prova pratica su strada, ed ancora un caro saluto da Andrea Cartotto. Al prossimo videocorso!